Siracusa è il caso Intel e la zona industriale siracusana, la disparità continua tra nord e sud. Grazie all'interessamento interessato del ministro dello sviluppo economico Giorgetti, esponente di punto della Lega, l'investimento industriale della Intel si farà al nord e la Sicilia perde così una grande occasione di sviluppo e le relative ricadute occupazionali. La Lega colpisce ancora il sud, lo priva di un'occasione di riscatto e progresso e lo condanna a una condizione economica e occupazionale già di per sé drammatica. L'avevamo detto che la Lega continua ad essere una forza politica impegnata a difendere gli interessi del nord, con questa notizia abbiamo tutti la certezza. Se all'investimento Intel, direttato al nord, aggiungiamo il disinteresse mostrato verso la crisi della zona industriale di Siracusa, emerge un dato inequivocabile. Per il centro-destra e i suoi esponenti, la Sicilia è terra da abbandonare al suo destino. Infine stiamo ancora aspettando, dalla Prestigiacomo, la bella notizia di essere riuscita a salvare la Lukoil. Campa cavallo che l'erba cresce, lo dichiara a sinistra italiana Federazione di Siracusa. Campa cavallo, ilинitore d'inferenzio, la squadra di Siracusa. Grazie.